All'Aquila non è solo importante vincere la sfida della ricostruzione, ma partecipare ad essa, perché una città non è fatta di sole case, ma di un abitare che abbia un senso. Da qui l'idea di dedicare alla partecipazione un vero e proprio festival, dal 7 al 10 luglio all'Aquila, promosso da Action Aid, Slow Food, Cittadinanza Attiva e Comune dell'Aquila. Coordinatore sarà Pino Donghi, che ha già organizzato eventi della portata del Festival dell'Economia di Trento. In certo il budget, anzi gli organizzatori, colgono l'occasione per invitare enti e privati a partecipare anche alle spese. Il Festival della partecipazione, che abbiamo l'onore di ospitare, si svolgerà qui in città dal 7 al 10 luglio 2016. Oltre ad essere un onore, è anche una responsabilità, perché sapete, ne abbiamo parlato più volte, abbiamo cercato in questi anni di mettere in campo un nuovo modello amministrativo che ripartisse dai cittadini, di mettesse al centro le loro esigenze e i loro bisogni. Quindi questo festival servirà in qualche modo a tirare le fila, a mettere in relazione tutte le esperienze virtuose che ci sono state sul territorio e a ripartire per capire come strutturare in maniera permanente la partecipazione. Chi parteciperà al Festival della partecipazione? Beh, ovviamente deve essere, e questo è il nostro obiettivo, aperto a tutti, tutte le associazioni, tutti coloro che in questi anni si sono impegnati per questo nuovo modello di governance, tutte le associazioni che hanno partecipato al bilancio partecipativo, che hanno partecipato per quanto riguarda la progettazione delle scuole ed altri progetti di valore, tutte queste persone ci auspichiamo, si mettano in rete e costruiscano insieme quell'intelligenza collettiva di cui abbiamo bisogno.